Il ministro dell'interno Piante e Dossi a Castelvetrano aveva visto da vicino la tecca che conserva il rottame della Quarto Savona 15, l'autodiscorta di Giovanni Falcone e Francesca Morvilli, in cui il 23 maggio di 31 anni fa persero la vita a capaci Antonio Montinano, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Otto giorni dopo, Piante e Dossi è tornato in Sicilia per deporre una corona di alloro ai piedi della Stele che ricorda l'Eccidio. Un omaggio, qui è seguita la partecipazione alla caserma Lungaro accompagnato dal capo della polizia Giannini, alla presentazione del libro Non ci hanno fatto niente, scritto da Tina Montinaro, la moglie di Antonio, pagine che raccontano la storia del marito, il caposcorta di Falcone dedicato alla lettura dei bambini, rappresentati alla Lungaro dagli allunni del convitto nazionale e della scuola Pertini di Palermo e della Marconi di Ricata. Lo strumento di lotta alla mafia, alle mafie, migliore e più efficace sarà quello del convincere le nuove generazioni dello stare dalla parte giusta. Palermo mi ha tolto tanto, però io ho sempre detto che a Palermo non mi sono mai sentita da sola, perché tante persone per bene mi sono state accanto. Dopo una visita alla questura di Palermo e l'omaggio di una corona di fiori, i poliziotti uccisi negli anni di più ferocia violenza mafiosa in città, in tarda mattinata piante d'ossi ha presiduto in prefettura una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, presenti i vertici di forza dell'Ordine e della magistratura della provincia di Palermo.